Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione di attualità politica è davvero un piacere andarvi a presentare l'ospite che ci farà compagnia nella prossima mezz'ora parleremo di tanti temi di stretta attualità racconteremo anche la storia di una donna impegnata in politica è l'assessore regionale che ringrazio per aver trovato un po di tempo anche per noi Giorgia Latini grazie assessore grazie a voi grazie dell'invito un piacere allora nel suo curriculum tanto studio dalla maturità linguistica alla laurea in giurisprudenza con 110 110 senza lode l'esame poi anche ho fatto anche superato diciamo l'esame d'avvocato però poi dopo mai praticato come avvocato e poi tanta esperienza sul campo come si dice con i primi passi mossi in politica in quale ruolo ma io ho iniziato a appassionarmi di politica a 26 anni quindi ho iniziato con una campagna elettorale a fabriano che è la mia città di origine e sostenevo il candidato sindaco di centrodestra da lì è iniziato il mio percorso politico perché ho iniziato a lavorare a roma con un segretario di presidenza della camera dei deputati che attualmente questore sempre del centrodestra e poi dopo sono stata anche due anni come esperto al ministero della pubblica amministrazione quando c'era brunetta al tempo da lì poi dopo invece sono passata dalla parte diciamo più tecnica dalla parte più politica perché poi dopo sono stata nominata assessore alla cultura sempre ad Ascoli Piceno Fabriano e Ascoli Piceno ha coperto quasi tutta la regione quindi lei è di Fabriano o è di Ascoli? Di entrambe le città ormai perché Fabriano ovviamente è la mia città d'origine quindi sono molto affezionata anche perché lì c'è tutta la mia famiglia quindi i miei genitori le mie sorelle invece la mia nuova città che ormai è entrata nel cuore è Ascoli Piceno dove c'è la mia nuova famiglia quindi i miei figli e la mia nuova famiglia. Assessore alla cultura 2014-2018 nel 2018 diventa deputato e appunto vicepresidente della settima commissione cultura scienze istruzione quindi il suo campo torna ad essere quello che esperienza è stata da deputata? Ma è stata una bellissima esperienza come anche quello di assessore alla cultura al comune di Ascoli Piceno sono ovviamente tutte esperienze diverse ma entrambe tutte servono per una crescita personale per farsi esperienza e per fare sempre meglio. Secondo me la politica è una missione quindi bisogna avere una vocazione perché ti prende 24 ore su 24 e diciamo quindi è molto impegnativa bisogna sacrificare anche parte della vita privata però quando si fa compassione quando si crede veramente di dare un supporto e di sostenere la collettività la comunità dopo ci sono gli obiettivi raggiunti i risultati che comunque pagano e sicuramente ti danno la forza di andare avanti perché non è sempre semplice poi il ruolo politico. Assolutamente da assessore comunale dove si può incidere su quello che si sceglie per la propria città ha deputata quindi la politica romana quella più lontana al cittadino questa distanza che certamente i cittadini avvertono lei come se ha cercato di colmarla in che modo? Assolutamente sì perché io sono sempre rimasta collegata al territorio quindi i miei atti i miei provvedimenti che ho portato alla camera dei deputati erano sempre atti che mi venivano dal territorio richieste che venivano dal territorio questo è fondamentale ma non è solamente una mia caratteristica questa ma è la caratteristica un po del partito che rappresento perché proprio anche gli altri miei colleghi parlamentari della Lega diciamo hanno questa modalità di intervento collegamento con il territorio si ascolta hanno i problemi reali si ascoltano le associazioni categorie si ascoltano insomma le persone anche direttamente i cittadini e da lì poi dopo si prendono delle iniziative politiche anche a livello nazionale. La Lega l'aria cambia un po in queste elezioni regionali lo si intuiva già dalla campagna elettorale solo i sondaggi davano in vantaggio il centrodestra tutta la coalizione con una importante trazione della Lega. Poi la discussione sul candidato presidente che ricade su Francesco Acquaroli che è un esponente di Fratelli d'Italia e la grande vittoria nelle Marche che passa dopo anni dal centrosinistra al centrodestra. Lei come ha vissuto questa fase di campagna elettorale peraltro in un periodo molto insolito sia perché si è svolta tutta d'estate sia perché era comunque un po condizionata dalla pandemia. Allora io l'ho vissuta con grandissimo entusiasmo non pensando poi dopo di far parte comunque della Giunta perché ricordiamo che io ero in Parlamento però sentiva questo cambiamento lo avvertivo però eravamo sì io ero sicura ero sicura che ci sarebbe stato questo cambiamento perché era proprio tangibile anche prima dell'inizio della campagna elettorale che c'era proprio la voglia di un cambio di passo e quindi noi ce l'abbiamo messa tutta ero sicura della vittoria magari c'erano altri miei colleghi insomma meno convinti perché sembrava un miraggio irraggiungibile dopo tutti questi anni invece ce l'abbiamo fatta quindi è ovvio che adesso l'entusiasmo c'è ancora di più perché adesso dobbiamo dimostrare con i fatti la volontà che prima abbiamo manifestato di cambiare. Poi arriva la chiamata forse una delle ultime non lo so queste sono indiscrezioni che noi non conosciamo nel senso che nel formare la squadra si fanno sempre i totonomi no quindi certamente Castelli lo si dava per sicuro o Saltamartini per quanto riguarda la sanità poi qualche altro nome magari ha sorpreso un po di più e poi è arrivata non arrivava la donna poi ci parlerà anche di questo visto le deleghe che ha e è arrivato il suo nome come con una telefonata vi eravate già quello che si può dire ovviamente vi eravate già sentiti come è stato questo percorso ma io mi sono sempre messa a disposizione del partito quindi questa è stata un'idea un po dell'ultimo minuto del mio partito che abbiamo condiviso insieme ovviamente sia con il commissario regionale l'onorevole Augusto Marchetti Riccardo Marchetti e il leader del nostro partito Matteo Salvini quindi sono state fatte delle riflessioni come dire abbiamo rinunciato al candidato presidente però vogliamo assessorati pesanti e quindi si erano contenti della mia presenza qua sul territorio io poi sono stata sempre molto legata al territorio quindi per me insomma essere al servizio e poter porre in essere delle azioni concrete per cambiare proprio no questa regione per migliorarla sicuramente una grandissima opportunità una bella sfida sì anche personale ma sì assolutamente sì molto più impegnativa rispetto al parlamentare ovviamente perché lei ha chiesto al presidente se c'erano altre colleghe e poi la dobbiamo chiamare assessore o assessora va benissimo assessore di colleghe sicuramente ci sono delle donne capaci anche che si sono candidate io infatti continuo a fare squadra con loro perché comunque la Lega deve crescere il nostro partito deve crescere è ovvio che è un partito che ha avuto un espload repentino quindi è un partito che sta crescendo in maniera adesso veloce però c'è bisogno diciamo ovviamente di creare una squadra organica una squadra comunque compatta coesa stiamo andando verso in questa direzione quindi ci sono sicuramente delle donne capaci competenti con cui in prospettiva potremmo fare dei bellissimi progetti e continuare una bellissima collaborazione però lei sa già dalla presentazione insomma oltre al fatto che il presidente aveva fatto delle scelte che andavano certamente più sul merito sulle competenze piuttosto che sui territori scontentando inevitabilmente qualcuno e anche l'aspetto della questione di genere in giunta ha lasciato un po perplessi è un problema questo allora per me sicuramente non è un problema io ripeto l'ho detto più volte che sono contentissima quando posso collaborare con le altre donne perché mi sono sempre trovata benissimo in politica con le mie colleghe anche parlamentari ma anche le altre mie colleghe che ho avuto in passato e quindi voglio continuare in questa direzione poi ovviamente bisogna capire quando ci sono le condizioni perché non possono essere cose forzate ovviamente ci sono tanti equilibri no equilibri l'ha detto prima lei territoriali politici e ad oggi ecco si è prospettata questa questa situazione ma non è solo assolutamente una preclusione nei confronti insomma di genere nei confronti della donna anzi le scelte sono state su altri criteri le deleghe sono importanti oltre che pesanti e vanno certamente affrontate tutte con spirito di cambiamento da una parte immagino di discontinuità ma anche con le risorse con una certa visione la cultura le politiche giovanili lo sport le pari opportunità lo abbiamo detto la scuola l'istruzione la domanda non può che essere un assessore iniziato il nuovo anno siamo in fascia arancione però c'è questa grande preoccupazione di famiglie di studenti che di personale scolastico che vuole tornare a scuola e parliamo delle superiori ci sono state anche delle piccole manifestazioni di protesta proprio qui in regione come vi state muovendo noi ci stiamo muovendo per dare comunque dei segnali concreti nel senso che noi adesso non vogliamo la chiusura delle scuole abbiamo fatto un'ordinanza per prolungare la didattica a distanza perché c'erano dei dati ovviamente che erano in crescita rispetto a dei parametri a degli indici di rt annunciati all'ultimo minuto dal governo che ovviamente erano cambiati come adesso sono cambiati e ci ritroviamo in zona arancione quindi noi purtroppo ci siamo trovati obbligati a fare questa scelta visto i parametri che cambiano così repentinamente ma il nostro obiettivo è riaprire le scuole in presenza in questi ultimi giorni i dati fortunatamente stanno scendendo quindi come abbiamo scritto nell'ordinanza se ci sono le condizioni noi siamo per riaprirle prima del 31 gennaio al 50 per cento almeno iniziandosi al 50 per cento poi magari per ancora di più certo certo per garantire una sicurezza anche nei trasporti per garantire una gradualità e ovviamente stiamo anche mettendo in essere delle misure concrete per far stare in sicurezza i nostri ragazzi negli ambienti scolastici perché in primis non è stato fatto niente per rendere sicuri gli ambienti da parte del governo mentre sono stati finanziati 500 milioni d'euro dalla Germania per impianti da aerazione in Italia non è stato fatto niente e ci stiamo proprio muovendo in tal senso come regione quello che non fa lo Stato facciamo noi ovviamente delle iniziative proprio a misura di scuole per arrivare a una riapertura in sicurezza ovviamente sarà un percorso graduale perché qua si parla e sì comunque sono interventi strutturali di impianti da aerazione per garantire questi spazi più sicuri personalmente qual è la sensazione che ha sulla riapertura o su questa chiusura prolungata delle scuole sta creando dei problemi sta creando dei problemi da un punto di vista sociale dei ragazzi psicologico quindi crea dei problemi e noi dobbiamo cercare noi siamo per la didattica in presenza lo abbiamo sempre detto anche come partito è ovvio che per avere una didattica in presenza al 100% serve comunque adottare quelle misure che io sinceramente portavo avanti come vicepresidente della commissione istruzione anche prima della pandemia un po di ritardo qui c'è stato noi chiedevamo prima della pandemia di abbassare il numero degli studenti per classe quindi già dicevamo questo prima dell'emergenza sanitaria e chiedevamo al governo di mettere fondi proprio per questo e per assumere gli insegnanti precari perché ovviamente se si diminuisce il numero degli studenti bisogna poi aumentare il numero degli insegnanti e ci siamo sempre battuti per questo adesso maggior ragione sarebbero delle misure che devono essere fatte tanto più che la ministra azzolina era lei stessa prima di diventare ministro che faceva battaglia contro le classi pollaio sì poi è la stessa ministra che dice voglio riaprire a tutti i costi ma non si riaprono quindi lì c'è qualche cortocircuito in questi giorni non è stato fatto niente a parte del governo per riaprirle in sicurezza il problema è tutto lì sicuramente il governo paga anche in questa fase di sua crisi anche questa gestione della pandemia già il presidente acquaroli ma anche voi avete un po' criticato questa non so più a che fase siamo se è la seconda ondata la terza ma comunque siamo in un momento critico per l'economia per le scuole per la socialità quindi vi unite a questo coro di critiche immagino al governo centrale sì assolutamente sì perché i cittadini hanno bisogno di certezze gli amministratori dei territori hanno bisogno di certezze invece il governo non riesce comunque a pianificare un piano di intervento che permetta di affrontare questa emergenza che permetta di affrontare questa crisi perché noi le proposte le abbiamo fatte ma anche a livello nazionale però purtroppo non c'è stato un convolgimento delle minoranze quindi non c'è stata neanche un'apertura di collaborazione ecco il gap è tutto qua quando poi dopo si vuole fare da soli senza ascoltare negli amministratori dei territori nelle categorie negli studenti nei sindacati ma si va avanti a senso unico poi ovviamente si creano queste situazioni scomode una crisi di governo adesso una crisi di governo adesso sicuramente è un momento delicato per affrontare una crisi di governo però è arrivato anche il momento comunque di prendere in mano la situazione ad oggi conte non riusciva a gestire l'ha dimostrato non riesce a gestire questa situazione di emergenza perché non è riuscito a programmarla nei migliori dei modi quindi la voce unanime del centrodestra è quella di ritornare alle urne perché tanti altri paesi europei comunque vanno ad elezioni anche in presenza appunto di questa pandemia quindi non è una cosa impossibile e secondo me sarebbe opportuno ridare voce ai cittadini forse spaventa un po forse la tempistica degli italiani o di chi ci governa non è sempre ottimale però staremo a vedere cosa succede anche perché c'è la conta dei deputati dei responsabili adesso l'hanno chiamato i costruttori i costruttori insomma sappiamo trovare anche diversi nomi alle diverse situazioni Assessore lei appunto tra le deleghe scuola e università istruzione e politiche giovanili abbiamo detto quanto bisogna o bisognerà interpretare i bisogni appunto dei giovani anche forse con misure ad hoc la cultura è questa è una regione che vive di cultura o lo può fare no mi dice qualche idea qualche qualche spunto sui programmi prossimi perché non vediamo l'ora di programmare fino adesso abbiamo gestito l'emergenza nel frattempo però abbiamo approfittato anche per approfondire i programmi nuovi progetti e quindi uno dei primi progetti che vogliamo portare avanti come giunta che coinvolge anche la cultura è quella di valorizzare l'entroterra i nostri bellissimi borghi quindi ci saranno vari interventi che passano dal commercio dall'artigianato locale dal turismo con gli alberghi diffusi fino ad arrivare alla cultura quindi con un festival culturale che coinvolge i borghi del nostro territorio e li mette a circuito e li mette a salvare tanta gente certo noi daremo promozione a quelli italiani ma soprattutto no anche internazionale anche il presidente se riparte ovviamente al turismo mancano le presenze straniere perché è indubbio che le marche abbiano fatto comunque un grande sforzo e abbiano conquistato anche dei riconoscimenti no però voi mi sembra che vogliate guardare un cambio di passo all'estero e ad altre situazioni quello assolutamente sì ovviamente saremo condizionati dalla pandemia perché adesso il mercato estero ovviamente è bloccato da questo punto di vista però la direzione è quella quindi mettere in rete questi eventi tra i borghi ovviamente da una risonanza più grande che il piccolo centro ovviamente non avrebbe la forza di promuovere un'iniziativa sul suo territorio e poi saranno tutte iniziative incentrate sull'identità sulla cultura sui miti sulle leggende che caratterizzano questi bellissimi posti quindi non vediamo l'ora di di porre in scena diciamo questo festival e speriamo appunto in estate quando non ci sarà più speriamo che diventi un brutto ricordo insomma è in aiuto magari c'è anche questa operazione io lo dico sempre di Marche Sicure quindi l'invito a farsi il tampone per essere controllati con tutti i limiti che questa operazione ha però credo che la regione abbia fatto quanto possibile in questo senso poi c'è il grande lavoro sui vaccini che vede questa regione già essere a buone percentuali assolutamente sì staremo a vedere che cosa succederà nelle dinamiche che sono anche nazionali volevo tornare con lei proprio sulla cultura come come spinta per anche una opportunità economica lei lo ha detto spesso no anche adesso i lavoratori della cultura soffrono molto come quelli dello spettacolo state mettendo delle risorse mi sembra sì abbiamo messo delle risorse importante e diciamo noi abbiamo messo delle risorse oltre ovviamente i rischi classici ristori ma abbiamo messo delle risorse anche per far continuare il mondo dello spettacolo a lavorare gli artisti a creare e quindi adesso abbiamo proprio annunciato un cartellone digitale che ha coinvolto tantissime compagnie teatrali marchigiane ha coinvolto più di 540 operatori dei lavoratori del settore artistico e quindi questo già mi sembra un bel segnale e è ovvio che ovviamente questa è un inizio perché poi ovviamente speriamo che dopo la fine di questo cartellone ovviamente i teatri si riaprano come i musei perché ripeto come ho detto anche altre volte il mondo della cultura si era organizzato benissimo osservava i protocolli di sicurezza in una maniera proprio veramente efficiente e purtroppo invece sono stati penalizzati questi luoghi e forse in alcune realtà potevano anche rimanere soprattutto i musei i teatri come insomma venivano gestiti chi non ha la galleria di uffizi ma magari ha un piccolo museo ma comunque importante poteva no si gestire con le prenotazioni ma era una cosa che bisognava assolutamente accompagnare sostenere e non chiudere e limitare assessore abbiamo parlato di tantissime cose proprio di passaggio lei è stata oggetto di alcune polemiche noi attacchi anche personali su alcune sue posizioni che sono oltre che legittime sono personali la questione per esempio della riflessione che questa giunta o questo gruppo vorrebbe fare sull'interruzione di gravidanza sull'uso della pillola abortiva vogliamo fare chiarezza per per onore di cronica hai fatto anche chiarezza in consiglio regionale adesso hanno ogni tanto ripresentano qualche nuova mozione interrogazione però io ho espresso una mia opinione personale e penso che la libertà di pensiero non può essere negata a nessuno soprattutto quando è sostegno della vita e della famiglia rimane il fatto che ovviamente le leggi vanno applicate quindi noi siamo per applicare integralmente la legge 194 che disciplina il sostegno alla maternità e alla famiglia quindi però non siamo poi dopo per questi attacchi strumentali che ovviamente danno un'immagine diversa e quindi sicuramente io sono rimasta dispiaciuta per gli attacchi personali che ho avuto dagli attacchi oltre insomma che avete visto i vari cartelloni esposti ma anche negli attacchi che ho avuto sui social perché il rispetto la dialettica avviene prima di tutto soprattutto in politica quindi bisogna essere aperti in un dialogo leale e poi ecco non abbiamo detto niente di male se non buttarla per dirla la marchigiana in cacciata no ragionarci su sì anche perché veramente noi siamo per applicare la 194 quindi per tutelare la salute della donna quindi ad oggi la pillola abortiva viene somministrata negli ospedali di obiezione di coscienza che forse andrà affrontata anche lì è stata già affrontata dalla legge dalla 194 quindi noi applichiamo la 194 che consente l'obiezione di coscienza ovviamente e poi naturalmente sono temi che richiedono una riflessione e anche una sensibilità diversa da quella che si esprime sui social assolutamente però ecco abbiamo capito la sua posizione quindi stigmatizzando tutte quelle che sono minacce poi poi si ragiona no anche certo certo il consiglio regionale il luogo del ragionamento del confronto del dibattito leale sempre rispettoso nei confronti dell'altra parte politica io penso che i politici debbano dare il buon esempio quindi dobbiamo dare il meglio di noi per dare un'immagine positiva comunque costruttiva alla comunità e fare attenzione alle parole dico io che di mestiere ne uso tante perché hanno un peso ultimissima cosa ancona non è riuscita ad avere l'assegnazione per la città della cultura 2022 ci aveva provato ci avevano provato altre città e procida complimenti e però assessore adesso lei è arrivata adesso siccome queste candidature si ripetono magari assolutamente ci lavoriamo perché voi avete cinque anni sì sì magari a fianco di qualche città come no non sarebbe male ci stiamo pensando già ci stiamo pensando una prossima candidatura e mi dispiace veramente molto insomma però ci sono delle città bellissime nelle marche che sicuramente possono avvalersi di questo prestigioso titolo magari anche una che le sta a cuore a lei non so vedremo non volevo dirlo così esplicitamente però sicuramente ci lavoreremo ci sta la nostra trasmissione è terminata io la ringrazio le auguro buon lavoro ne avete tanto e appunto queste continui cambiamenti condizionano un po il lavoro di tutti questa è la sua stanza la sua nuova stanza ci sta parecchio o è più un assessore sempre in giro però ovviamente come vedete abbastanza frequentata qualcosa che le hanno regalato che le sta a cuore che le piace avere sott'occhio regalato proprio prima delle feste questo bellissimo croce fisso me l'ha regalato donaldo buon aiuti di fabriano e è stato benedetto un prete impegnato tra l'altro sulla violenza anche a fianco delle donne certo e è stato benedetto dal papa quindi infatti adesso voglio prestissimo appenderlo qua nella sua stanza sì in questo nuovo ufficio e magari ogni tanto un po di protezione avere qualche riferimento diciamo così non solo assolutamente culturale assolutamente sì grazie assessore e ancora grazie a voi grazie a voi grazie noi ci vediamo settimana prossima con un'altra puntata grazie grazie a voi